Dopo aver fatto tutte quelle cose ballose, tipo sbloccare il bootloader ed installare un nuovo recovery tipo TWRP Manager, comincia il divertimento. Infatti basta scaricare Xenon HD, la ROM, le OpenG Apps e Magisk. Avviare il cellulare in recovery ed installare il tutto. Fatto ciò avremo un cellulare al passo con i tempi, ma soprattutto stabile e leggero. È totalmente personalizzabile e con i diritti di root grazie a Magisk, ma anche con tutte le funzionalità di servizi di Google, che ovviamente appesantiranno il tutto. Dunque, prima di comprare un cellulare smartphone nuovo, oltre a dare retta alle pubblicità e dalle varie mode, è sempre opportuno controllare che siano supportati da queste comunità di sviluppatori, quali Lineage OS, dalla quale deriva Xenon HD, ad esempio. Non imitatemi a cuor leggero, perché se qualcosa va storto, il vostro simpatico smartphone diventerà un fermacarte. Buona visione, ciao, commentate e date un colpo al pollice. Grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.